ciao a tutti e bentornati sul mio canale e nella mia cucina oggi con un nuovo spacchettamento unboxing rapidissima dell'azienda siemens qui c'è scritto casseroles e quindi presumo che siano delle pentole e non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi e soprattutto di provarle e sul mio nuovo piano a induzione io mi raccomando come sempre iscrivetevi iscrivetevi in tanti e cliccate sulla campanellina perché avete così modo di poter vedere tutte le mie ricette che sia dolce che sia salato insomma c'è tanto da vedere andiamo ad aprire subito questo pacco buona visione e noi ci vediamo al prossimo video ciao velocissima nell'apertura o padelle ragazzi io quando apro queste scatole quando mi arrivano i pacchi delle aziende non sempre so quello che c'è dentro la sorpresa anche perché qui sopra io avevo letto dove scritto casseroles leggo adesso poi è poi al perdonatemi con lo spagnolo quindi a questo punto padelle sono meravigliose caspita c'è l'acciaio fuori qui logicamente vediamo il simbolo della lavastoviglie dell'induzione del gas no la lavastoviglie non c'è induzione ceramica gas ed elettrico quindi per vari ripiani da 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 cottura questo è un 18 centimetri ok credo 18 24 24 vediamo vediamo insieme anche perché qui dopo ce n'è un altro no questo un pentolino va bene comunque insomma fuori abbiamo acciaio e dentro abbiamo l'antiaderente pesantissima bella 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 qui invece abbiamo un pentolino questo invece ha il manico in acciaio più leggero ed è tutto acciaio andiamo avanti coperchio in vetro io ragazzi prima di avere il fuoco il ripiano a induzione pensavo che questi coperchi con il pomello in acciaio soprattutto con i manici in acciaio i pentolini pensavano pensavo che scottassero e invece no ho avuto questa magnifica sorpresa non bruciano che non è male perché io odio le presine invece così posso prenderlo tranquillamente senza le presine qui invece abbiamo un'altra meravigliosa pentola acciaio temperato e acciaio lucido anche qui questo io non ho capito se cosa significa questo perché non capendo non sapendo lo spagnolo perché qui vedo un 22 cm qui vede un 18 chissà forse all'esterno all'interno non lo so scusate la mia ignoranza ma io sono questa sono spontanea diretta qui un altro pentolino e chiedetemi se sono felice felicissima io ragazzi sono veramente dei prodotti veramente eccellente non mi resta che ringraziare l'azienda simens per avermi omaggiata di queste meravigliose pentole e queste padelle non vedo l'ora di fare delle ricette insieme a voi quindi non mi rimane che salutarvi e darci appuntamento nei prossimi video ciao ciao ciao